Se non vivi per qualcosa, muori per niente. Questa è una delle due scritte che al lato del portale del Duomo di Fano ha accolto quanti oggi, alle ore 15, si sono ritrovati per salutare per l'ultima volta Jacopo Monaldi, il 24enne che ha perso la vita tragicamente in un incidente sulla litoranea adriatica una settimana fa. E Jacopo di cose ne ha vissute molte nella sua breve esistenza. Per vivere quello che hai fatto tu, a me ci sarebbero volute due vite, dice nell'omelia Don Giuseppe Cavoli che ha ufficiato la messa insieme a Don Enrico Secchiaroli. Nell'età adulta si ha paura di molte cose, continua il sacerdote, e rivolgendosi alla silente e attonita folla dice un po' di coraggio da lui, l'imparerei. Per Don Giuseppe l'applauso finale della profonda omelia rivolto al ricordo di Jacopo è una coltellata, perché ciò che fu questo ragazzone che portava i surgelati nelle case durante uno dei suoi tanti saltuari lavori, rimarrà per sempre un esempio per lui di ostinazione, di forza e di caparbietà. Ironia della sorte, il lunedì dopo l'incidente avrebbe dovuto finalmente, dopo tanta precarietà, entrare stabilmente in un'azienda agricola della zona, come sottolineato anche dalla presenza dei titolari alla messa. Nel Duomo stracolmo di gente, a testimonianza di quanto Jacopo ha saputo voler bene e farsi voler bene da tutti, pezzi della sua vita, gli atleti che condividevano con lui la passione per la boxe e che hanno portato a spalla fuori dalla chiesa il feretro a fine funzione, Gli amici che con un ciuffo di palloncini bianchi hanno affidato il loro ultimo saluto sul sagrato del Duomo e anche il suo ex capo scout che dal pulpito ha dipinto il carattere combattivo di Jacopo che fin da piccolo mostrava i segnali di quel carattere che lo avrebbe portato a fare grandi sfide e affrontare grandi imprese. Dice lui che era come un fratello maggiore, oltre che capo, era determinato e insistente, talmente insistente da sfinirti e da farti dire sempre sì. Nelle uscite che si faceva con il reparto, l'escursione più difficile era sempre la sua, sempre la ricerca di qualcosa di più, come quando mi chiese di dargli una mano per entrare nei vigili del fuoco, una delle sue grandi passioni. Ora invece ha passato quella porta, che è la morte, passata la quale si prende una grande coincidenza, sottolinea Don Giuseppe, sul significato della funzione religiosa, la coincidenza per la resurrezione. Fuori da quella porta troviamo la nostra vita, pertanto ora Jacopo, gli amici, la famiglia, i compagni d'aventura ti augurano buona strada.